E questa è in ordine di tempo l'ultima vetrina spaccata nella notte. Si parla della movida di Piazza Muzzi e gli esercenti che si trovano proprio in questa via, quella diacente all'ingresso del mercato coperto, parlano di un fenomeno che ricorre spesso. Piazza Muzzi è ancora al centro delle polemiche. Dopo il restyling che prevedeva una nuova era per l'intero quartiere, oggi a sovrapporsi sono più voci. Da un lato quella dei residenti che lamentano schiamazzi notturni e dall'altro quella degli esercenti che sono vittime di danneggiamenti dei locali. Ultimamente ci sono state frazioni nei locali della zona, più che altro danni, che però danno fastidio. Tutto questo è riconducibile al periodo in cui è stata rinnovata la piazza e si è spostata la movida? Beh sì, più o meno. Tutti questi episodi prima non accadevano, erano molto più sporadici. C'è la gente che va a dormire presto, perché la mattina si deve alzare, naturalmente vuole dormire la notte. È una preoccupazione l'estate adesso? Se qua come l'anno scorso faranno, mettono la musica, quelli che ballano, allora va bene perché è anche bello vederlo. Se certamente lasciano così, ognuno fa quello che vuole. Lamentali arrivano anche dagli esercenti del mercato coperto, che dal canto loro soffrono la riduzione dei parcheggi, che limiterebbe molti clienti. All'inizio sono stati per i lavori, perciò ci hanno portato dei danni enormi. Abbiamo perso un parte dei nostri clienti. E in più a noi ci ha creato dei problemi perché non c'è più viabilità, non c'è parcheggio, non c'è accesso al mercato come c'era una volta. la spesa, fare la spesa pesa, non è lo shopping. E più che altro c'è la sporcizza, c'è creato altri problemi. Già questo mercato aveva delle sue problematiche, c'era qualcuna di più. Anche se l'amministrazione cerca di risolverli, non è che l'amministrazione sta con le mani in mano. Però i problemi ci sono.